Gli attrezzi da lavoro degli schiavi carpintieri della villa suburbana di Civita Giuliana è l'ultima scoperta nel quartiere servile di Pompei, indagata scientificamente sin dal 2017, quando fu strappata agli scavatori clandestini grazie a un accordo tra il Parco archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torriannunziata, un ambiente conservato in maniera eccezionale come gli altri due scoperti nello stesso settore, con i letti degli schiavi, dove è stato possibile realizzare i calchi di mobili e di altri oggetti di materiali deperibili, legno, tessuti, corde. Un'ulteriore stanza ampia allo spaccato di vita degli ultimi attimi. L'ambiente contiene un letto, ma anche attrezzi di lavoro e quello che sembra un telaio, forse di un altro letto, smontato. Si riconoscono inoltre ceste, una lunga corda, pezzi di legno e una sega con lama, che sembra non tanto diversa dalle seghe tradizionali usate fino a poco tempo fa. Individuato persino un pezzo della corda, sempre come impronta nel sottosuolo, che la teneva sotto tensione. Si tratta di un esempio virtuoso di sinergia tra il Ministero della Cultura, il Parco e la Procura della Repubblica di Torriannunziata, ha detto il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zugtrigel. Gli ambienti dei patroni, ma anche degli schiavi, come questo qua, dove troviamo le brandine, gli attrezzi, gli oggetti di vita quotidiana, tutto conservato come se fosse una fotografia di un mondo tramontato, grazie alla tecnica dei calchi. Oggetti deperibili, come legno, tessuti, ma anche le vittime a volte dell'eruzione lasciano un vuoto nella cinerite, nel suolo. Questo vuoto può essere riempito con il gesso durante lo scavo ed ecco vediamo riemergere dal suolo le forme degli oggetti e a volte anche le vittime dell'eruzione. È una documentazione davvero unica, siamo molto contenti di questa collaborazione con la procura, ci dà grandi soddisfazioni anche a livello scientifico e adesso continueremo gli scavi anche grazie al finanziamento in legge di bilancio voluto dal ministro San Giuliano per una campagna di scavi nazionale a Pompei e in altri parchi archeologici.